Dal medico. Fa attività pericolose? Qualche volta non sono d'accordo con mia moglie. Facciamo tutti errori. È inevitabile. Ogni volta che vedo mia moglie me lo dico. Quando metto gli occhiali mi addormento. Sono occhiali da riposo. Nostro figlio ha un lavoro. Come se la cava? Stressato, schiavizzato, sottopagato. Non ha più una vita privata. È diventato un uomo. C'è qualcosa di grande tra di noi. Se è grande non è roba tua. Per me basta bere, altrimenti mi viene un problemino alle gambe. Che problema? Mi si aprono. Ti offro mia moglie. Quanto mi dai? Niente. Affare fatto è tua. Mi chiedo come fanno a resistere quelli sposati. Ti ricordo che sei sposato anche tu. Ah già, è vero. Stanotte, cara, cambia l'orario e si dorme un'ora in meno. Tanto non c'è il rischio che si tromba un'ora in meno. Tanto non c'è il rischio che si tromba un'ora in meno.